Bentornati a sedere Senza titolo, oggi raccontiamo la storia di una persona alla quale io voglio davvero molto bene perché penso di poterlo considerare un caro amico. Ve lo presento, è Mario Lamberti, è un economista e soprattutto un artista e ci ospita nel suo studio d'arte. Come stai Mario? Bene, bene, bene. Sono molto contento di aver riallacciato il discorso della vita con te. Che comunque noi i contatti non li abbiamo mai persi, però davanti ad una telecamera insieme ci ritroviamo oggi dopo un po' di tempo. Però a raccontare la tua vita. Sei pronto? Una vita secondo me avventurosa. Una vita particolare con delle scelte particolari fino a un certo punto che io ti ho anche invidiato. Quante volte ti ho detto Mario mi piacerebbe fare la tua stessa vita ma faccio un mestiere e oramai ho una vita consolidata. Strutturato, strutturato, strutturato. Però alla fine mi sa che ho avuto ragione io perché sei tu tornato verso... Eh, la metamorfosi. Però ecco, quella che è la riflessione che mi viene, no? L'albero riesce a fare i frutti nel momento in cui sta veramente fermo, no? Mette le radici in profondità nella terra e poi si alza verso il cielo e se poi sei un melo, sei un pero, sei un arancio, doni i tuoi frutti. E Mario un frutto l'ha donato perché è una bambina splendida e dunque da quando... Mi ha radicato, mi ha radicato. Lo ha radicato. Mi ha radicato. Da dove però è partito e ripartiamo dall'inizio. Intanto tu ti chiami Mario Lamberti. Mario Lamberti. Però oramai tutti ti conoscono come Mario dal mare perché è una sorta di nome d'arte che tu hai scelto in un percorso particolare che hai fatto e poi ci racconterai. Certo. Però visto che hai parlato di radici, le tue radici oggi sono qui, da dove è nato l'albero? Da dove è nato? Tu sei Teramano. Sono Teramano, però Teramano particolare perché effettivamente i miei genitori investirono in un progetto che si chiama Mulino San Nicola, che doveva essere tipo una sorta di zona residenziale che doveva così accompagnare la venuta di dirigenti perché nascevano... Ormai proliferavano le fabbriche, i nuclei industriali e quindi nascevano pure questi sogni. Vedendo il boom economico. Boom economico agli anni Ottanta. E dal centro storico di Teramo sono andati a finire a Mulino San Nicola che è una zona che io amo molto, faccio pure delle attività, ho fatto delle attività nel passato, che però mi ha portato sempre a essere itinerante perché poi ho fatto tutte le scuole a Teramo, avevo mia zia a Teramo in appoggio e quindi ho vissuto sempre questo vai e vieni fino a quando a 16 anni mi sono trasferito a Teramo. Così, proprio per volontà di vivermi di più la città, facevo il liceo classico, in passato ho giocato fino a 15 anni, fino a quando non ho avuto il mio primo grande incidente, dove ho avuto due braccia ingessate, ho giocato col Teramo. Teramo calcio? Teramo calcio, Teramo calcio. E in che ruolo ho giocato? Terzino sinistro. Eri forte? Me la cavavo, giocavo bene. Anche Mario, vabbè fa strano pensare a Mario Calciatore perché forse sei la persona, almeno tra le mie conoscenze, più lontane dalla vita, tra virgolette, normale e banale, perché insomma a tutti i tuoi uomini piace il calcio e invece tu, io ti ho sempre visto proprio. Ma io anche quando giocavo, ti ho fatto massimo il Teramo, poi ho avuto un po' una passione. Ma che ti è successo? Le braccia che hai fatto? Eh, questa è una cosa importante perché lì già c'è stato un primo mutamento di tutta la mia idea di carriera perché... Ah, se tu che volevi fare? Perché tu sei un economista, dunque l'hai studiato? Ho studiato, sì però ho fatto il liceo classico, ho studiato economia grazie a una ricerca che il mio professore di filosofia mi diede perché io ero un po' più irrequieto, ero un po' un po' cioè col pensiero ho sempre avuto a che fare. Va in contrasto il fatto che tu sia un economista con la vita da artista che poi ti ha caratterizzato? No, questa è stata la grande, quello che oggi ho chiamato sotto il nome di geoempatia, è stata una grande possibilità, quella di poter entrare nello spirito della città. Ovvero, andando all'università a Roma, una Roma diciamo del giubileo, appena restaurata, una Roma dove ancora sopravvivevano delle forze che provenivano da molto lontano, cioè antiche, no? Dove le persone erano autentiche, non erano ciniche ancora, erano proprio di cuore, avevano apertura, dove le primavere ancora tutti facevano le feste sulla terrazza e se qualcuno passava per strada poteva salire, cioè cose che oggi non esistono più. Troppo no. Non esistono più. E in questo amore per la città, in questo attraversare, anche lì, io vivevo nel quartiere africano, ma avevo l'università a Via delle Sette Chiese, che è praticamente sulla Cristoforo Colombo di fronte alla regione Lazio, quindi ogni giorno attraversavo la città. E il pomeriggio... Attraversavi un museo all'aperto, praticamente. Eh, il pomeriggio mi fermavo nel museo all'aperto, la mattina di corsa per andare a lezioni, il pomeriggio mi fermavo... E lì è nato Mario Artista. E lì è nato Mario Artista. Tra un libro di economia e l'altro, Roma di Aspera. Tra il libro di economia e l'amore per la filosofia, perché io, al di là dei miei che mi dicevano, ma no, tu sei uno sportivo, fai l'Isef, poi fai... Io, no, ho scelto economia perché, compresi nella filosofia così, ma questo è il mio modo di vedere, è che l'economia è un po', diciamo, il braccio del pensiero, no? Le braccia del pensiero che muove la realtà. E quindi andai a studiare economia. Ma fortunatamente studiando economia e conoscendo artisti, l'arte, la bellezza, leggendo, chiudendo biblioteche, personaggi e via dicendo, gallerie, fu più forte di me quando scoprì che Basilea entrava, io mi stavo per laureare nel 2002, quindi il passaggio... Infatti adesso ho fatto 19 anni che mi sono preso questa laurea in triennale, perché poi feci il cambio. Io mi sono iscritto alla quadriennale di economia all'Aquila, poi non mi piaceva l'università pubblica, avevo vinto un premio con il liceo, un premio assicurativo, e ho investito su un'università semipubblica... A Roma, dove? A Roma, a Roma. In questa università sono stato la fortuna di essere la matricola numero uno. Cioè se gli avessi stato il primo iscritto? Il primo iscritto, perché ero andato lì per fare la LUIS, ma dovevo... ho fatto il test, ma dovevo comunque rifiutare i due esami che avevo fatto già. Quindi decido di non rifiutarli e di trovare un'altra università. Apriva in quell'anno, dal 2001 al 2002, il primo corso oltre Siena di scienze bancarie a Roma. Era un evento. Sono andato e sono praticamente... ero l'unico che era andato di persona. Quindi il segretario mi ha detto... ti metto la matricola numero uno. Dunque, quando fra duecento anni quest'università verrà ricordata, che tutti gli accademici in pompa magna andranno, ci sarà il tuo nome come la matricola numero uno di questa... chissà se ormai ti faranno una targa. Ma chissà, non lo dobbiamo. Però torniamo alle braccia. Alle braccia, no, ma adesso ci siamo persi. Come ti sei rotta? Però il mio percorso è quello, praticamente... È partita la metamorfosi con sta rottura delle braccia. Eh, diciamo anche un po' prima, perché comunque un fascino... Sono figlio unico. Sono figlio unico. Ma adesso, grazie a te, mi sono ricordato. Io ho fatto la San Giuseppe, no? E avevamo una maestra molto appassionata che ci ha coinvolto tutti a realizzare una mostra sull'antiquariato. E quindi non me lo scorderò mai questo. E quindi ci invitò a tutti a trovare le cose più antiche che avevamo a casa e riportarle in questa stanzona della scuola della San Giuseppe per fare una mostra sui tempi che furono. E da lì ebbi questo sentore che chiaramente a Teramo non è facile da alimentare. Cioè non hai molti esempi di personalità, di artisti, di... Cioè è più facile che finisci nello sport. Infatti io poi a cinque anni feci il provino una volta... Io sono onorato di dire questo. Siamo stati l'ultimo vivaio solo Teramani. Cioè della provincia di Teramo. Cioè le giovani del Teramo Calcio avevano solo Teramani. Solo Teramani. Il primo provino eravamo mille ragazzi e ne scelsero 50. Dunque c'era anche una selezione piuttosto dura che si accettavano tutti. Sì, sì, no, era molto... Selettiva. Selettiva, sì, sì. Poi... E ste braccia non ci vuoi arrivare a dire come ti sei scatastato. Quindi ho iniziato questa passione infinita a cinque anni di giocare a calcio. E tra l'altro facevamo tutti i giorni allenamento a collaterrato. E quindi era proprio la mia vita giocare a pallone. E scuola. E scuola, giocare a pallone, scuola, giocare a pallone, scuola. Quindi iniziavano i campionati e la prima partita di campionato del Giovanni Giovanissimi su una volata che ho fatto correndo, perché io correvo molto, su e giù, su e giù. Su una volata per andare a crossare uno da dietro mi fa la famosa canghetta, si può dire, sgambetto, come lo diciamo. La canghetta è in dialetto. È in dialetto, certo. Ma che lo capiamo tutti. E poi per volontà di riprendere la palla ho fatto una capriola, no? Sai, una capriola così. E hai appoggiato. E hai appoggiato le mani. Quindi sono andati in... ma a caldo non ho sentito nulla. Ma ti si è rotto il polso? Ti si è rotto lo scafoide, lo scafoide. Tutte e due. Tutte e due. Però sono andato all'ospedale e non mi hanno visto la frattura. Quindi mi faceva male, soprattutto quello sinistro, un male, proprio non potevo più fare così, no? E poi dopo due mesi in un'altra partita sono caduto, sono riandato all'ospedale, non me l'hanno visto. Cioè tu sei stato due mesi con i polsi, diciamo, rotti e nessuno te l'ha visto. Nessuno me l'ha visto. Poi sono andato... cioè mi hanno detto mettici in ripare il gel e il ghiaccio. Questo l'ha detto l'ospedale. Poi sei ricaduto. Sono ricaduto, sono andato invece all'ospedale, non di terra, ma Giulianova. Giulianova mi hanno detto no, qua dobbiamo ingessare immediatamente perché va tutto in necrosi fra poco. Bene, dunque hai rischiato grosso. E lì la tua carriera da calciatore, diciamo, l'hai un po' messa da parte. Quell'anno, sì, ci tengo a dire, c'era un osservatore della Sampedoria che comunque mi aveva d'occhiare. Se tu non avessi avuto questo incidente, probabilmente... E quindi ero felicissimo di fare quella, ma invece è andata così. Però noi e te non ci sarei mai incontrati. Mai incontrati. Perché te ne andavi a Genova, a Tornia, a Tornia, a Sampedoria e incontrati... Non era il mio destino, non era il mio destino. Secondo me il tuo destino è quello che hai scelto. È quello dove sono adesso. Io non ti saprei vedere, non ti saprei ascoltare diversamente da come sei da quello che dici. Io ho sempre pensato questo di te. Anche perché la prima volta che ci siamo visti, Mario venne in televisione all'allora Teleponte, entrò, fu amore a prima vista, amore a prima vista, che entrò con vestito ovviamente d'artista. Oggi diciamo che da quando ha messo le radici anche il suo look è leggermente... Leggermente cambiato. Sì, sì, leggermente... No, ma no... E portavi una cosa lunga... Tu ti ricordi quello, ma quella è stata... E io mi ricordo sta valigia... La valigia, la valigia... E da questa valigia, io non so dove ce l'ha, perché da questa... Eccola lì. Da quella valigia, Gianluca Iezzoni, che ringraziamo oggi c'è lui alle telecamere... No, la metto qua. Da questa valigia... Ecco, qua comincia a fare il Mario del solito. Che si muove. Lo dico... Sì, perché faceva dannare tutti i cameraman ed è sempre... Da questa valigia arrivava e tirava fuori di tutto. Di tutto. Dipendeva dal periodo. Le barconote, che erano delle banconote per fare il baratto. A che serviva le barconote? No, la barconota è riconoscere l'altro aperto a una visione di reciprocità. Cioè, quello che sostanzialmente stiamo vivendo tutti, poi al di là della mia storia personale, che... Però, effettivamente, il mondo tecnologico, non dico quello televisivo, perché fino a quando c'è stata la televisione, ancora era... Ma quello del telefonino, diciamo così... A proposito, preparatevi, perché c'è un'opera d'arte che ha cambiato anche lì, è stato un altro punto di svolta della mia vita. La parte è una cosa, un telefonino, che tra breve vedremo. E' come se ci fossimo messi, oltre agli ortaggi con gli imballaggi, come succede. Così, nella comunicazione ci siamo avvolti di un imballaggio invisibile, che non ci porta più a essere reciproci. E questa è un po' l'indagine dell'economia poetica, perché poi ho fatto economia e poi ho lasciato l'economia dal punto di vista politico, diciamo così, dal punto di vista... L'ho trasformata in poesia. L'ho trasformata in... Che sembra, ribadisco, per chi pensa all'economia come il denaro che muove il mondo, è difficile pensare ad un'economia poetica. Cioè, accostare il termine proprio economia a poesia fa strano. Sì, fa molto strano. Poi, tra l'altro, io voglio far vedere una cosa di Mario, perché tra le tante cose che Mario ha sempre fatto, c'è questa. Cioè, lui prendeva dei quaderni, questo sempre artistici, perché li creavi tu, e scriveva, scriveva a mano. A mano, a mano. Però leggere quello che scrive Mario è difficile, perché bisognerebbe entrare nel suo linguaggio, perché tu hai fatto parte, e fai parte ancora, anche se non in maniera attiva, di un movimento che si chiama Salvavanguardia. Sì, il movimento si chiama Aldilista. Aldilista, sì. La Salvavanguardia... L'azione che fa l'Aldilista è la Salvavanguardia. No, ma lo so che per molti, uno dice, ma lui è chiaramente, però, chiaramente, sembra che non ha un filo conduttore all'interno di una società. Bello, ogni attimo c'è vita. Ecco, questo è stato il mio primo cavallo di battaglia. In tutto ciò che fai, il passato, il presente e il futuro, sentirai, vedrai, se nell'attimo... Se nell'attimo ti tuffo. Se nell'attimo ti tuffo. La sei a memoria. Se nell'attimo ti tufferai, l'inizio e la fine delle cose distingui. Ma il bello, ecco, per esempio, tu sei un sostenitore del bello. Io sono d'accordo, perché secondo me la bellezza proprio è alla base di una vita felice e serena. Ma tu hai uno sguardo che chiaramente porta a bellezza, tu sei una bellissima donna. Io ti ringrazio, ma non è quella bellezza lì che sta... No, ma no, 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 sempre dal punto di vista, infatti da poco sto ritoccando i social e ho apprezzato moltissimo il tuo sguardo di quella passeggiata domenicale che riporta proprio all'essenzialità della vita, alla gioia che scorre. Io la passeggiata domenicale la faccio sempre. No, infatti... Dunque, nuova da piedi, in bicicletta... Sono intervenuto? Sì, è vero, sei intervenuto, adesso non mi ricordo. No, ma è semplicemente perché è proprio lo sguardo con il quale uno si rasserena, no? Perché magari, ecco, dicevo, nel campo dove tu tocchi la cronaca, no? E quindi tutti gli eventi catastrofici dell'umanità, diciamo... Non solo la cronaca, anche la politica, la cosa... Sì, 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 no, d'altronde diciamo che, ecco, questa è una base sostanziale dell'economia poetica che una cultura del debito porta all'usura e porta anche alla, tra virgolette, al linguaggio plastico di una certa bellezza che passa attraverso uno stupore che è dato da una notizia sconvolgente, per esempio, no? Esplosa la bomba, continua la guerra, questo immaginario, questo linguaggio, questo nutrimento va in opposizione un po' a quella che invece è la riscoperta delle piccole cose, del guardare, no? Felicemente un bambino che fissa il niente o che due innamorati che stanno seduti sul prato, come tu hai descritto, no? Ah, ho capito qual era, sì, lì ho fatto una camminata, è stato bellissimo perché io osservo sempre e lì era un bel vedere, il gioco dei bambini, le cose semplici. Poi la bellezza di questo ragazzo con quel mazzo di fiori vicino che guardava una partita tra immigrati e alla sinistra, mentre io guardavo questa scena, ho visto un balcone dove c'era la bandiera della pace. Per me era, in quel momento quello significava, per me quello è il senso della vita, della vita come la interpreta e come la vedo io, perché poi ognuno ha il suo modo. Ma torniamo a Mario perché tu sei un po' filosofeggiando. Siamo andati verso il pensiero. Cresci a Teramo, giochi a pallone, poi studi il classico, vai all'università a Roma e poi... All'Aquila, a Roma. Quando è che sei diventato il Mario un po' alternativo, diciamo così? Allora, il Mario un po' alternativo, allora, devo dire che sin dagli studi... Allora, io voglio dire una cosa io, visto che li conosco, tu hai due genitori splendidi, secondo me. Splendidi, no, se lo ringrazio tantissimo di essere figlio unico e di essere, come dire, stato, o di aver scelto in qualche modo, dipende dal punto di vista, quei genitori lì. Tu sei quello che pensa che i genitori li scegliamo nel momento in cui nasciamo? Guarda, ultimamente con la bambina sento diversi pareri di tanti genitori e di tante situazioni. La pensano come te? No, 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 me lo dicono loro, che a volte certe situazioni sono proprio chi nasce che se ne cercano, perché nascere in un punto... E poi quello è importante, ciò che accade è il punto di partenza dappertutto, nel senso che l'altro giorno ho avuto questa riflessione, al di là di com'è la situazione, di quelle che sono le condizioni, adesso è un punto di partenza. E quindi, quando uno viene qui in questo pianeta, che io credo fondamentalmente, non sono io, ma credo che ci sia qualcosa al di là, no? E credo sostanzialmente, anche come elementi fisici, che noi siamo soltanto un pianeta di una composizione di pianeti di un sistema solare. Dunque, tu pensi che quando non ci saremo più ci ritroveremo da un'altra parte, qualcosa di noi si ritroverà da un'altra parte. Come il nostro corpo, se fossimo, diciamo, un po' più ecologisti, potrebbe tornare alla terra, no? A dare nutrimento a quelle radici che poi rinascono, ricrescono, certo. E così, con il problema che c'è con i cimiteri, che questo è un fatto reale, insomma, che la quotidianità, che è sempre più difficile trovare un posto nelle grandi città, probabilmente, chissà, finiremo molto prima della decomposizione in cenere a nutrire le piante. Anche più semplice... Allora, però, noi torniamo a noi. A un certo punto, che fa Mario? A un certo punto, praticamente, il momento è stato... C'è qualche guaio gliel'hai fatto passare ai tuoi genitori? Certo, certo. Più di uno? Già al liceo ho combinato un po' di guai. Quando sono andato a Londra... Quanto sei stato a Londra? No, pochissimo, pochissimo. Però ti è bastato per fare i guai grossi. Per fare un guaio, per attivare questo senso dell'aldilista, perché sono andato in coma a Londra. Lo so, io non so che cosa vuoi raccontare di quella storia, però se vuoi racconti. No, mi è stato il mio primo e ultimo rave. Esatto. Io da 17enne, terramano, che si vociferava, perché una volta esisteva il passaparola. Sì, non era come adesso. Poi erano anche meno comuni i rave adesso. Sì, no, adesso non ha niente a che fare. Tu sei andato a Londra, hai partecipato a un rave. A un rave e non sapevo cosa andavo incontro e quindi è come se fossi andato con una macchina contro un muro. E sei andato in coma? E sei rimasto in coma? Sono rimasto in coma tre giorni, come vuole la tradizione. Terzo giorno. Mi sono svegliato. Ma sono venuti a Londra. Mentre mi stavano dando l'estremazione con i miei genitori. Sì, sì. Aspetta, fermi. Questo è importantissimo. No, è importantissima, ma io so quasi tutto di te. A me questa cosa però non me l'avevi mai detta. No, te l'ho detta. Forse l'ho rimossa. Praticamente tu eri in coma. Al terzo giorno è venuto il prete a darti l'estremuzione. Il quattro settembre sono andato in coma, poi il cinque sono stato lungo lì. Eri a Londra? Sì, ero a Londra, al St. Thomas, praticamente in centro, dove c'era il più grande centro di rianimazione d'Inghilterra, praticamente. Ho avuto queste, diciamo, nobili origini inglesi. Era meglio non passarci, però magari tutto insegna la vita. Dunque, quando stavi oramai ti avevo dato per spacciato? Ormai ero spacciato. Mia madre è fortemente, molto credente, e quindi fa l'atto di devozione. Dice, va bene, diamogli l'estremuzione. Quindi riesce, quando decide questo, trova una sora che parla italiano, trova il prete di Malta che parla italiano. Tutto andava in quella direzione. Quindi, quando inizia il prete a fare l'atto, questo atto sacro di estremuzione, entra la mia ex compagna del tempo e io sento la sua voce. Quindi mi si riattiva. Tu hai sentito la voce? Ho sentito la voce. Quindi non riuscivo a aprire gli occhi, ma ho sentito solo la voce. E in un istante, subito dopo, ho aperto gli occhi e ho visto questa scena che... Hai visto il prete? No, il prete era qui. Tu hai visto la mamma allora? Io ho visto mio padre, mia madre, Annalisa, si chiama Annalisa, questa ragazza che mi accompagnò quel tempo, e due infermieri. C'erano i due infermieri lì e io in un attimo ho sbattuto un po' gli occhi, questa cosa me la ricordo tale e quale, ho detto ma... Che è successo? No, non ho fatto la curva. Cioè pensavo in un istante, quando ho chiuso gli occhi così, di aver fatto... di essere andato dritto a una curva che avevo avuto sempre il timore che... di andarci dritto. Cioè l'avente ti ha riportato la paura che avevi e pensavi di aver fatto un incidente... Sì, perché praticamente quando vai in coma è come se si scombussola tutta casa. Tu non ti ricordi niente del coma, vero? No, del coma no. E quando l'hai vista hai parlato subito? Che hai detto? E niente, ho detto questa cosa, poi... Volevo alzarmi... Ah, tu hai detto non ho fatto la curva? Non ho fatto la curva, volevo... Nella drammaticità fa ridere la cosa. Cioè tu hai guardato tutta questa gente, compresi il prete che ti sta dando queste emozioni... No, il prete ancora non lo riusciva a vedere. Ed hai detto non ho fatto la curva. Non ho fatto la curva. Ho detto ho fatto l'incidente. Pensavo di aver fatto questo incidente col motorino perché mi... Ti è venuta in mente sta curva? Sì, perché praticamente quando uno va in coma è come se c'è i cassetti della memoria. Tutti scombinati. Allora c'è quello dei primi anni di... Tutti, tutto... Come quando vengono i ladri a casa. E questo fatto, diciamo, questo coma ti ha lasciato qualcosa, no? Tu da lì ti sei ripreso subito. No, ci ho fatto... Poi hai dovuto fare riabilitazione. Ho dovuto fare riabilitazione. Sei tornato in Italia, ovviamente. Sono tornato in Italia. Dopo due settimane di ospedale a Londra. Poi sono tornato in Italia. Ho iniziato a fare la riabilitazione. e con le palestre... Questa voce della tua ex ragazza, tu pensi che sia stata determinante? O ti saresti svegliano, lo sai? Secondo me, in quel momento, per come è andata la storia... I rapporti con lei li hai comunque mantenuti di amici. Sì, sereni, poi chiaramente... Ognuno fa la sua strada, ognuno fa la sua vita. Però ti ricordi... Beh, certo, è un elemento fondamentale. Da lì nasce l'aldilismo e nasce l'economia poetica. Da quel momento. Perché, e ti dico questo e lo dico anche agli amici, perché Docklands, dove sono andato a Rave, dove sono nate le prime industrie al mondo, tessili, lungo il fiume Tamigi. Ma tu a Storab, che ci sei andato a fare? Ma ci sono andato perché i ragazzi... Ma in quanti siete partiti da te erano per il fiume? Ma erano partiti nel 7-8, ma noi eravamo andati a studiare, quindi lì è stato anche un tradimento dei miei genitori, dei genitori degli altri, di tutti. Io ho fatto una ragazzata da 17enne che mi è esemplare, è stata una cosa esemplare, mi sono autopunito, diciamo, per poi non divergere più. Cioè hai concentrato tutti i guai che noi figli nel corso del tempo facciamo in un unico evento, tu ti sei sciambato là, proprio. In un unico evento, lì. I guai che potevi combinarli hai fatti tutti in un colpo solo. Lì, lì. E poi in realtà questa cosa mi ha dato la forza, la carica di continuare i miei studi, anzi, ho voluto fare economia apposta per quello perché era innamorato del pensiero e non sapevo di questo fatto, non l'avevo mai collegato, ci ho messo una vita a collegare il fatto che lì sono nate le prime aziende. Ora mi ritrovo con lo studio in un'azienda. In un'azienda, che bello. E quindi come se in realtà... Di pari l'arte e l'economia nella tua vita proprio hanno avuto sempre un legame stretto. Un legame strettissimo. Penso che poi economia, come dico nel libro, nel Rinascisenso, in origine significava oikos, cioè amministrazione oikos e nomos, le leggi per la casa, amministrare la casa. Però prima oikos, in prima voce, è la casa pianeta. Quindi prima ecologia, quindi è lo studio del pianeta. E invece economia è l'amministrazione delle risorse del pianeta. Allora, tu sei noto, diciamo, sul territorio terramano, non solo perché sei un terramano e gli amici che ti conoscono, ti conoscono da sempre, ma a un certo punto, vabbè, poi magari ci dici anche le tue letture, le dorosche, eccetera, eccetera, quello in cui credi. Importante, certo. Vabbè, quello è chiaro, è la base delle scelte che uno fa nella vita, l'arte, la cultura, sono alla base di quello che poi siamo e diventiamo la strada che intraprendiamo. Sei noto perché a un certo punto, in una zona bellissima del mare terramano, quando molto prima che diventasse un fenomeno, dei luoghi anche più frequentati adesso oramai, parliamo di Cologna Spiaggia, zona Borsacchio, insomma tra il Borsacchio e i Lidi che poi nel tempo sono nati. Quando era ancora una zona selvaggia, molto selvaggia, tu hai realizzato Itaca. Itaca, sì, andando incontro a una mia visione che cercherò in quest'anno di portare comunque avanti, che è quella di unire il mare alle montagne. Mi incamminai con il mio cane Zeus, che si chiama Zeus, quindi tu... personaggio tigrato. Era un cane, insomma. Un cane particolare. E mi incamminai lungo il fiume Tordino, perché l'origine ancestrale anche di Teramo, di Pretut, è il fatto che le navi dei viaggiatori che venivano, il popolo del mare, che venivano dall'Anatolia, si pensa, lasciasse le barche di fronte alle foci e poi risalisse il fiume, no? Invece ho fatto il contrario, ho preso il cane e sono andato alla forza. E ti sei trovata a Itaca. E poi andando verso Cologna, sapevo di questo pezzo di spiaggia selvaggio che ci siamo andati pure prima, però lì con Zeus mi addormentai la prima notte lì nel 2010, quando già... Signora, tutte queste volte che tu sei addormentato, che sei stato fuori, che non sei tornato a casa, ma i tuoi genitori li hai avvertiti? O poverini sono dovuti abituare a questo tuo girovagare anche senza dare notizie? No, hanno... Poi figlio unico, voglio di nanzia... Sì, no, no, c'è stata una comunicazione non diciamo esaustiva, però ormai si erano abituati a questa... Si erano abituati, ok. Cioè se non rientravi a casa, stavi a Itaco, stavi a Roma... Sì, sì, no, ma poi io da 18 anni che non abitavo più con i miei, Tu hai girato quasi, cioè hai girato tantissimo... Tantissimo, ancora non riesco a finire di girare l'Italia, cose incredibili, mancano due regioni... Ti manca, fammi sentire... La Val d'Aosta e la Sardegna, cioè per me viverlo è almeno starci un mese, no? Ma tu quando ti sei spostato e sei rimasto tanto tempo in un luogo, l'economia, la tua sopravvivenza, come la gestivi? Perché tu non è che cacciavi i soldi... No, 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 anche a Roma, io ho avuto la fortuna fino a prima del coroio... Non perché tu magari te lo potevi anche permettere, però era proprio una tua filosofia di vita, una sorta di decrescita, no? Decrescita, sì, la decrescita felice, l'economia poetica, ma anche, e qui ritorno un attimo al momento della tesi, quando io ho scelto di fare il passaggio, perché avevo conosciuto tanti maestri dell'arte romana, no? Ma proprio persone... Emidio Antoci, Mario Martini, Guido Guidi, Alessandrin Gale... Cioè, frequentavo il caffè No Tekken, che era una resistenza degli inizi del Novecento, dove sono passati praticamente... e dove si viveva ancora, si respirava una situazione di agapè, sai che l'amore viene declinato in varie forme, no? C'è fileo, che è l'amore per il sapere, l'agapè, l'amore per l'amicizia, quello che nutriamo anche noi, io e te, e poi c'è l'eros, e poi probabilmente ci sono altre declinazioni di amore, che per i greci, però in questo c'era proprio uno spirito, no? Come all'interno dei movimenti o dei partiti o delle... che nutriva la possibilità di essere reciproci e solidali, e quindi di... Lì trovavi ospitalità, trovavi da mangiare, ognuno dava quello che aveva. Qualcosa così, sì. Dunque tu sei la prova vivente, perché l'hai sperimentato sulla tua pelle, che l'essere umano, se si adatta, sopravvive ovunque. Certo, ma non solo io, ma ci sono migliaia di persone del mondo. No, tutte le persone che hanno poi scelto... Ecco, diciamo che venendo da un tessuto industriale, perché come ripetevo prima, Mulio San Nicola è nato perché c'erano i nuclei industriali, se no c'era un campo di grano, e poi sono cresciuto praticamente con l'azienda di Malavolta, quindi il mio padrino è stato a rischio di Malavolta. E poi quello è stato anche un caso, quando e te ci siamo conosciuti, Super J Teleponte non era forse neanche più di Malavolta, però questa coincidenza, visto che Malavolta ha avuto la televisione per dieci anni, il tuo padre ha lavorato con Malavolta. Poi nella vita di ognuno di noi ci si incontra, i punti di contatto, anche quando non ci conoscevamo, già c'erano. Questa è la meravigliosità, se si può dire così, della vita. E quindi c'è sempre stato il fattore che da questo, come se uno va a vedere l'altro, da un mondo molto strutturato, industriale, io ho sempre guardato dalla finestra la socialità. Anzi, qui ti voglio fare anche una domanda un po' cattivella, tra virgolette, perché insomma, come si dice dalle parti nostre, home dice, ma Mario Lamberti si è potuto permettere quello che ha fatto, ad andare in giro, anche senza soldi, perché aveva le spalle coperte con una famiglia benestante, perché è questo, tu vieni da una famiglia benestante, una famiglia tra l'altro, non solo benestante, ma anche una famiglia unita, perché se poi è una famiglia benestante, i miei genitori sono assenti. No, invece nel tuo caso, due genitori veramente strutturano, una famiglia strutturata bene, per cui dicono, vabbè, è certo che ha fatto quelle che volevo fare, tanto torni a casa, trovi mamma e papà, ma io devo dire... Tu come replichi a questo? No, io replico che se... Le piccole realtà ci conosciamo tutti. Certo, no, 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 dico che sicuramente è una realtà di fondo, però le scelte che ho fatto, le ho fatte di cuore, e le ho fatte anche rinunciando a tutto quanto quello che avevo, perché ho vissuto veramente, senza niente, per tanti anni, e facendo di... Cioè ti stai arrangiando con il tuo? Con il mio, con il mio da subito. Quando al Noteken, il mio primo lavoro è stato fare l'assistente alla regia di Daniel Nifczyski, con Isle dove vai, visto che stiamo in questa guerra, Isle dove vai, che raccontava praticamente questo fenomeno della partenza, di tutta la tradizione ebraica che non si racconta, che sono quelli dei musicisti, quella che un po' riporta anche nei quadri Marc Chagall, no, tutta questa coralità delle ritualità, no, che è questa bellezza che si sta perdendo anche nella loro cultura, no, questa sacralità, no, di spegnere per esempio le luci e di accendere solo le candele, le luci elettriche, che fanno, no, tutti i shabbat, mi pare. Adesso... Dunque tu hai cominciato subito a lavorare a Roma, cioè tu ti sei mantenuto da solo. Sì, 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 a Roma sì. A Roma ho vissuto, poi grazie, diciamo, all'arte e ai maestri che ho avuto, ho avuto sempre, io li chiamo maestri, magari non sono uomini illuminati, però avevano una capacità di trasferirti, come stare al mondo, no, trasferirti il gioco della vita. Però poi ti dico anche una cosa e questo è quello che penso io di te, tu sei una persona talmente solare, sorridente, sorridente, secondo me anche buona, che, cioè, sei così aperto e così portato verso il prossimo, che era in post... Cioè, se tu vieni a casa mia, io la porta di casa mia, anche se non ti conosco bene, te la apro in quel contesto che tu ci racconti, perché sei proprio tu che sei aperto agli altri, tu stesso apri proprio, no, le porte... Io ci provo perché mi rendo conto agli altri. Probabilmente... Sei sempre stato così da quando ti conosco. Sì, 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 no, perché... Nelle varie fasi della tua vita, perché oggi, ecco, ci tengo a dirti, oggi ti vediamo con sto gilè, tu hai avuto anche, da un punto di vista estetico, sti capelloni, l'hai sempre avuti. Questo è pure un altro punto di invia. Vabbè, non sono cresciuto in altezza. Da qualche parte. Da qualche parte dovevo avere un punto... No, perché oggi quando ci siamo visti fuori... Ti ho pure detto... No, perché... Io e te ci conosciamo almeno da 15 anni. Quanti anni hai tu adesso, Mario? Perché per me sei sempre... Eh, io ne devo fare 42. 42. E a me, tra l'altro, mi sei sembrato anche più scuro di capelli, ma non te li tingi, no? No, non mi li tingo. E al te, al posto di diventarti bianchi, ti diventano scuri. Diciamo che la quercia si allarga e si infoltisce. Dunque, anche da un punto di vista estetico, oggi hai un aspetto, più da papà, però hai avuto anche un'evoluzione. Ad esempio, lì, prima abbiamo messo... Ho rivisto un cappello con il quale spesso veniva in trasmissione, il cilindro. Il cilindro. Bellissimo, quello era bellissimo, il tuo cilindro. Poi le giacche, dei tessuti particolari, indossati. Sì, sì, sì. Poi, devo dire che è chiaramente una... Tante fidanzate. In base al territorio. Mi sei sempre piaciuto tanto alle donne. Almeno io ne ho contate diverse. Io diciamo che ho amato, ho amato, ho amato, ho amato. Amo ancora, voglio amare la vita. Prima di tutto, perché quella è una cosa importante che voglio trasferire anche a mia figlia, è l'apertura, come tu, giustamente. Ma tu lo sei, ma è impossibile non trasferirgli questa cosa, perché tu ce l'hai, è naturale, tuoi figli essendo tua figlia ce l'avrà naturale. Ce l'avrà, ce l'avrà naturale. Spero per lei, perché poi comunque le cose della vita, ognuno reagisce. Io mi sono accorto che ognuno ha il suo carattere da quando nasce. Io pure ho sempre pensato questo. L'educazione fa, perché vuoi dire... No, no, l'educazione fa moltissimo per formarti, però come tu recepisci la vita già ti viene dalla nascita, come la faccio. Sei nuovo, ma Itaca? Itaca, diciamo che dal 2020... Ecco, pure lì, ma chi vi accusava di essere, tra virgolette, dei vagabondi che non sanno quello che vanno facendo, no? Mentre invece tu lì, poi c'avate un progetto, tu e tutte le persone che vivevano quella situazione con te, quello era un progetto ben preciso. Sì. E con sincerità che chi ci guardava storto probabilmente non ci salutava, ma io siccome quando stavo sulla spiaggia e quindi passavano all'inizio... Li chiamavi tu. ...dieci anni fa non ci veniva nessuno. Poi grazie anche a te, probabilmente, grazie al fatto che si è... Poi sono nate anche le guardiane del Borsacchio. Sono successe diverse cose che hanno portato piano piano a sconfinare il pennello. ...che va anche molto di moda. Va anche molto di moda. Ma essendo un salvavanguardista, io, come dire, in qualche modo percorro dei... Ho fatto quello che diceva Rimbaud. Ecco, adesso mi viene in mente... Sì, veggente. Cioè, chi scrive poesie non è che ha il compito di attingere a un vuoto, a uno sconfinato, a un mistero, no? e di riportarlo per quanto è possibile riportarlo. Itaca in realtà era una poesia vivente, nel senso che Itaca, come Odisseo e Omero, volevano raccontare che poi Omero, diciamo, è il trascrittore, probabilmente era ancora più antica la leggenda di Ulisse, o comunque del viaggiatore. Cioè, ti sei un po' un Omero? No, io mi sento... No, in quel caso, grazie anche a te, Dorotea, perché Italo Calvino e Foucault, che gli altri spazi, le città invisibili, dentro di me hanno creato una combustione che hanno dato vita a creare altre isole. Poi c'è un altro Akin Bey, un poeta della Beat Generation che le ha chiamate Taz, zone temporaneamente autogestive. Taz, detto così, alla terramana, sembra Taz. Taz, Taz. Taz, la Z pronuncia così, Taz, che sono le Tazze. È vero, è vero, è vero. No, io ti dico queste scemenze. È fatto bene. Perché io voglio anche un po' ogni tanto disturbare il tuo filosofeggiare. È vero, è vero. Perché qualche volta la tua grande cultura io non la seguo, per cui per non fare la figura dell'ignorante dico le scemenze. No, ma fai bene, fai bene perché è l'ironia, perché io cerco di citare questo, però io sono un personaggio. Come mi diceva un mio amico, tu devi parlare di cose serie perché se fai ridere già tu sei buffo, Quindi effettivamente Sorridi mentre dice le cose. Sorrido, oppure comunque ho questa espressione, sarà il taglio degli occhi all'ingiù, non lo so, non lo so di scrivere. Sì, e sei un po' sì, un po' una maschera quella da teatro, sei, ecco, la prima volta che ti ho visto sembravi uscito da un palcoscenico. Da un palcoscenico? Sì, da un palcoscenico. Ecco, infatti il teatro, io portavo avanti il teatro che poi in Piazzetta del Sole esercitavo quei ragazzi randaggi. Anche lì hai preso una... Sì, diciamo che io sono un po' un Don Quixote. Si è insegnato anche a Piazzetta del Sole ma è stato cacciato perché non si è stato capito neanche lì. No, è che lì è andato via Campana. Cioè Campana che era assessore agli eventi e che sosteneva ti sosteneva. Sosteneva. Grazie a lui le sculture di ghiaccio a Piazza Marti, la scrivania a Piazza Marti. Io chiederei a Gianluca di prenderci il telefonino dove l'abbiamo messo quell'inchiudato perché visto che prima l'avevo detto ma probabilmente avremmo già visto anche un video però voglio farvi vedere grazie per l'assistenza Gianluca non solo cameraman ma anche assistente oggi. Ecco, puoi toglierlo facciamo il rito fai il rito tu. Oddio. Io sono capace di farmi malissimo vedi un po'. Che cosa hai fatto? Tu fammi capire. Allora praticamente per una ho fatto una performance perché dopo tre anni a Roma siamo riusciti grazie a un team di persone a creare la piazza Piazza Pasquino che è nata da una mia idea diciamo così da un'ispirazione un'ispirazione è nata questa piazza che però poi era il 10 dicembre del 2019 e poi subito dopo a febbraio è scoppiato il covid il coronavirus per tre anni non si è poteva fare niente appena il giugno del giugno del 2020 si sono riaperte diciamo così le porte e abbiamo fatto un evento in questo evento io in questi due tre mesi avevo ragionato che sostanzialmente non volevo più aver che fare col telefono quindi dovevo fare un atto simbolico per me e per tutti quelli che non ce la facevano più di questo telefono e anche grazie poi ho rivalutato il fatto che c'è un film ma l'ho rivalutato solo dopo postumo si chiama i cento chiodi dove un professore di filosofia inchioda cento libri e poi se ne va e lascia tu hai fatto un chiodo ma l'hai inchiodata al telefonino un chiodo al telefonino e l'ho chiamato proprio chi odo chi odo chi odo sentire sentire perché chi odo fissa il luogo crocifisso nelle mani chi odo arresta le mobili fissazioni di microchip emozionali chi odo slega il corpo dalla ricarica elettrica chi odo distingue la virtualità dalla spiritualità chi odo è tutto ciò che vivo e ascolto ora in presenza di un'altra esistenza che bene come te c'è un ritorno al passato in questa intervista che mi sta facendo molto bene tu mi rilassi ma com'è sempre l'hai fatto il fattore io ecco essendo a lì porto un altro tempo è vero vado fuori tempo e soprattutto un'altra dimensione rispetto alla frenesia anche se tu un po' dentro al mio mondo ci sei dovuto tornare ma rimani sempre comunque questa persona io lo sposo lo amo ringrazio la realtà per così per come accade nonostante sia nonostante abbiamo come dicono l'altro verso abbiamo tutto per essere contenti nel mondo ma invece facciamo di tutto per renderci l'altro sono dello studio in piazzetta il valoratore era l'azzurro della piazzetta l'azzurro della piazzetta questa è anche una seduta molto bella l'abbiamo voluta qui per farla vedere questo è lo studio di Mar dunque in chiusura e usogna in chiusura parliamo un po' di queste tue opere tra l'altro ci sono e io l'aspetto ti porto le mie scarpe perché io sono una che le scarpe le rompe tutti i giorni passi verso il cielo passi verso il cielo questo è uno dei cavalli di battaglia di Mario che mi ricordo la prima volta che l'ho visto un po' ci abbiamo anche riso però Mario fa sì all'origine erano marroni ma scusa ma dentro lì che ci hai messo sono le ali di falco ecco vabbè quel Mario si alza mi alzo semplicemente perché così magari si può prendere e qui in questo quadro c'è un po' la sintesi di tutta l'economia poetica perché si passa dalla lira dollaro che non si vede euro barconota e grano perché il grano era l'origine di tutto ma tornerà a essere l'origine di tutto perché i semi cioè in un futuro diciamo potrebbe essere più sereno no i semi cioè garantirsi il simbolo il seme garantirsi la vita perché nel seme c'è il potenziale della vita c'è la potenza e l'atto sarà semplicemente di piantarlo però è così è come anche questa nostra conversazione e tutta l'operazione che fai tu Dorotea di untitled senza titolo di donare conoscenza delle figure delle persone io tu lo sai che cosa penso che animano il territorio io faccio questo mestiere perché a me piacciono le persone figurati raccontarle è la cosa più bella che ci sia noi ci dobbiamo salutare salutiamoci anche perché questa è una conversazione che con te per la persona che sei non può avere un inizio e non può avere nemmeno soprattutto una fine cioè questa è una conversazione che finisce con dei puntini di sospensione è così va bene noi già che abbiamo fatto dannare Gianluca io lo vorrei abbracciare Mario mi posso alzare Gianluca lo so non si fa non si fa ma noi ci alziamo ci abbracciamo in base grande Mario è sempre un grandissimo piacere ti voglio bene grazie in bocca al lupo per tutto grazie per esserti raccontato e soprattutto la vita di Mario è una vita bella Mario è una bella persona cioè io invito tutti a frequentare la tua filosofia ecco io infatti devo dire che farò questa cosa sulle montagne quando? tutto iniziamo con il mese la fine dell'ultima settimana di aprile da dove? dal 22 a Fanadriano a Fanadriano poi spero che per invece per i primi di aprile vorrei fare una camminata poetica dentro Teramo per così attraversare tutto il suo periodo allora facciamo un fatto tutte le tue iniziative ci chiami noi di Super J ti daremo lo spazio per pubblicizzarle va bene e ci salutiamo così certo grazie Mario davvero in bocca al lupo grazie a voi grazie a Super J ah voglio dire una cosa bellissima su Mario che quando ci siamo sentiti noi stiamo venendo qui dove lui ha questo studio nel posso dire dovessi nel lupo industriale di Mosciano a Ripoli di Mosciano ho avvertito Mario che stiamo arrivando con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario concordato lui mi ha detto allora io ho tempo per andare a fare una cosa ho detto certo Mario arriviamo con 20 minuti di ritardo beh Mario è andato e tra breve quando si spegneranno le telecamere ovviamente la sua gentilezza noi ne approfitteremo è andato credo tra l'altro in un forno particolarissimo perché mi ha detto vado a Giulianova Paese ed è tornato con una merenda salata e una dolce perché ha detto non potevo accogliervi senza offrirvi qualcosa questo è Mario e qua ci possiamo salutare un abbraccio un abbraccio grazie grazie Mario grazie anche a voi per l'attenzione arrivederci grazie a tutti